Cuori Nerazzurri, bentrovati e bentornati alla Champions League 21-22. Entrano i nostri ragazzi, entra lo Shakhtar, una partita determinante e decisiva per il proseguio della stagione europea sia per l'Inter che per lo Shakhtar. Attenzione che va all'uno contro uno con Dodò, lo punta, gioco di gambe, triplo, il cross, la palla è buona, il tiro! La palla alta sopra la traversa, parte la traiettoria, il colpo di testa, tira a Nocchia e la palla sfiora il palo. Palla nel corridoio per Perisic, attenzione che va al cross, palla sul destro, la mette morbida sul palo lontano, arriva Dzeko, ancora Trubin! Laterale per Darmian che prova a mettere la riprima intenzione per Dzeko in avanti, Barella, la palla è buona per Lautaro, 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 ancora Trubin! Ancora Trubin! Il cross immediato, cercare Lautaro, anticipato la palla buona per Darmian, il tiro, Murato, arriva, Dzeko e gol! E' 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 questa volta è buono! E' questa volta è buono! Attenzione, prova ad andare, gioco di gambe, guadagna al fondo, il cross è buono! E' gol! 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 il cigno, il cigno ancora lui, ancora Evi Dzeko Solomon che punta, prova ad andare dentro cerca di andare, pericoloso Marlos allarga, Dodò al tiro il palo, mamma mia l'Inter batte lo Shakhtar per due reti a zero doppietta del cigno Grazie